Oddio 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 Antonio che cazzo ha fatto Antonio Io ora mi dovresti solo spiegare perché ho preso 5 secondi di penalità a cazzo Eltingar Ma come? Ma ti stavo passando Ma ti stavo passando Mi hai dato la penalità Vabbè rega è andata la gara È andata la gara È andata la gara È andata la gara